Weha mamma, oggi è il grande giorno, eh? Ti dobbiamo tagliare qualcosina. Che fortuna. Mettiti lì che chiami medici che ti vengano ad operare, va bene? Ma tu sei nato pure con la fimosi, è ancora peggio. E che cos'è? Allora, vuol dire che sei nato con la pelle stretta, quindi sta tutto strozzato, poverina. Quando vai in bagno ti rimane tutto lo sporco attorno, ti puzzo come un tricchio andato in putrefazione, è vero? Sì, è vero. Allora, è una questione di gene? Seconda cosa, quando avrai rapporti in futuro, mi ringrazierai a me, perché non ti farà male. Ricordati di me. Ah, fanno l'anestesia almeno? L'anestesia non l'abbiamo nel 2000 avanti Cristo. Vuoi un pugno in testa? Beh, un'idea. Ma non mi guarda. No, no, non ti guardo, non ti guardo. Buongiorno. Salve. Allora, chiedi fuori. Vai. Abbiamo finito. Allora, è... Marona mia, quanta pelle. Che è tutto sto diametro? Eh sì, parecchia pelle. Comunque... Perché la buttiamo, signora? No, 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 no. Non si butta niente qui. Vabbè. Dammi qua. Facciamo, che ne so, una pascimina di pelle? Due ravioli? Ehi. Facciamo, che ne so, una pascimina di pelle?